vogliamo leggere insieme da atti degli apostoli al capitolo 19 leggeremo i primi 19 versi di questo momento di lungo momento di paolo a efeso con tutto ciò che questa sua presenza comportò dalle difficoltà il rifiuto dalla discesa e dall'opera dello spirito di dio dai suoi lunghi insegnamenti in questa città e considereremo l'opera dello spirito di dio attraverso l'apostolo paolo da alcuni passi da alcuni momenti del suo soggiorno a efeso leggiamo dunque dal capitolo 19 degli atti degli apostoli a partire dal verso primo fino al verso 19 mentre apollo era corinto paolo dopo aver attraversato la parte alta del paese andò a efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse riceveste voi lo spirito santo dopo aver creduto ed essi a lui non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo spirito santo e gli disse loro di che battesimo siete dunque stati battezzati essi risposero del battesimo di giovanni paolo disse giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui cioè in gesù udito questo furono battezzati nel nome del signore gesù e dopo che paolo ebbe loro imposto le mani lo spirito santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano erano in tutto circa dodici uomini poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per tre mesi discorrendo con parole persuasive delle cose relative al regno di dio ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della via davanti alla folla egli ritiratosi da loro separò i discepoli discorrendo ogni giorno nella scuola di tiranno questo durò due anni così tutti coloro che abitavano nell'asia giudei e greci udirono la parola del signore e dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di paolo al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei gembuli che erano stati sul suo corpo e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del signore gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni dicendo io vi scongiuro per quel gesù che paolo proclama e quelli che facevano questo erano sette figli di un certo sceva giudeo capo sacerdote ma lo spirito maligno rispondendo disse loro gesù lo conosco e paolo so chi è ma voi chi siete l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su due di loro li sopraffece e fece loro tale violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti e questo fatto fu risaputo da tutti giudei e greci che abitavano in efeso e tutti furono presi da spavento e il nome del signore gesù era magnificato e molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte e molti di quelli che avevano esercitato le arti magiche portarono i loro libri e li arsero alla presenza di tutti e calconatone il prezzo trovarono che ammontava a 50.000 dramme d'argento così la parola di dio cresceva potentemente e si rafforzava ogni volta che leggo brani come questo ne sono letteralmente entusiasta sapete perché perché gli atti degli apro degli apostoli apre un periodo apre un periodo che è quello in cui la grazia di dio opera potentemente per mezzo dello spirito santo che è stato sparso affinché la salvezza giunga a tutte le genti e questo periodo non si è completato non si è chiuso è ancora potentemente gloriosamente aperto chiaramente in questo brano noi leggiamo di un risveglio glorioso che investì per mezzo dell'apostolo paolo la città di efeso al punto da metterla sotto sopra e come avviene sempre paolo incontrò difficoltà rifiuti nemici combattimenti lotte e poi quel forte tumulto di cui si parlerà sempre nello stesso capitolo che fece risuonare l'intera città contro l'apostolo paolo ed altri discepoli e in tutto questo però noi vediamo che l'azione dello spirito di dio è così potente e gloriosa da rivoluzionare da mettere sotto sopra la città e guardate che quando dico mettere sotto sopra intendo proprio metterla sotto sopra perché perché ciò che vi accade non è solo una questione di un rinnovamento religioso o di una conversione da una religione all'altra entra la predicazione dell'evangelo dal paganesimo alcuni si convertono dal giudaesimo alcuni abbracciano quello che è il compimento della religione giudaica cioè cristo gesù e quindi si creano un po di tensioni no qua c'è la rivelazione di dio operante in mezzo alla città qua c'è dio che cambia le cose e mostra se stesso attraverso l'opera che l'apostolo paolo compie ovvero attraverso le opere che lo spirito di dio compie attraverso l'apostolo paolo e dinanzi agli efesini viene dimostrata la presenza operante di dio il punto non è tanto paolo che pure viene riconosciuto dagli uomini e anche dai demoni come abbiamo letto come un servo di dio autorevole e anche rivestito di grande autorità ma lì c'è la questione che proprio dio comincia a manifestarsi e gli uomini devono vedere dio che opera in mezzo a loro dio che agisce e badate adesso lo affronteremo questo tema che vorrà essere un po il centro del discorso non un dio ma lì dio l'unico dio dell'universo ed è questo uno degli aspetti che noi dovremmo porre al centro delle nostre preghiere perché perché qui vediamo quello che Gesù intendeva appunto quando nei primi capitoli del degli atti degli apostoli lui invita i credenti a rimanere fermi e a cercare la potenza dello spirito di dio che da lì a breve sarebbe scesa scusate perché perché è quello che cambia è quello che rivoluziona ora cosa intendo dire quando i discepoli cominciarono a dibattere non erano uomini dalla grande conoscenza non erano uomini grandemente istruiti abituati a predicare o a controbattere o a dibattere delle cause a difendere delle proprie idee erano persone semplici ma come vediamo in stefano la loro sapienza veniva direttamente dallo spirito di dio e la predicazione si affermava con grande potenza e piegava i cuori perché veniva anticipata preceduta e seguita dalla potenza dello spirito di dio e questo che la rendeva inarrestabile e anche quando pietro si alzò nella sua prima predicazione improvvisata si alzò a difesa di dei discepoli e di quanto stava accadendo per mano di dio cioè la discesa dello spirito santo la predicazione divenne irresistibile perché giungeva ai cuori con la forza persuasiva e con la convinzione dello spirito di dio e allora noi così nelle varie pagine del degli atti degli apostoli giungiamo e vediamo muoversi nel corso degli anni lo spirito di dio attraverso i credenti e vediamo che il centro il tutto la sostanza è sempre e solamente la pienezza dello spirito di dio ora qual è il problema il problema è che perché la presenza dello spirito di dio giunga i cuori devono disporsi in modo da preferire lui e la sua opera ad ogni cosa in noi disporsi in modo da farlo scendere dentro di noi in modo da piegare il nostro cuore da convincere il nostro cuore del nostro peccato da permettergli di rendersi cioè persone completamente arrese a lui cosa intendo dire la persona che abbiamo qui dinanzi di cui abbiamo parlato cioè l'apostolo paolo è una persona dal carattere fortissimo nella sua conversione noi lo vediamo sin da giovane da adolescente essere lì testimone di un omicidio di un martirio e lui è testimone convinto e persuaso di quello che sta accadendo accadendo al punto che lui stesso diventerà persecutore un uomo forte crudele aspro deciso determinato duro ma quando lo spirito di dio lo raggiunge lo piega nelle profondità al punto che lui dice io non sono degno di essere chiamato neppure apostolo io sono come un aborto non sono niente dice nella mia carne non abita alcun bene io sono nulla tutte le cose che mi erano guadagno io le ho considerate come tanta spazzatura al fine di conoscere cristo quando lo spirito di dio scende profondamente nel cuore non è una semplice emozione e non è neanche la bella atmosfera che si crea quando adoriamo il signore tutti quanti insieme gloria a dio per quei momenti io vorrei abitare sempre nell'adorazione ma l'opera di dio è quando scende nel cuore e ti rende un'altra persona dipendente da lui desideroso di lui ripieno di lui al punto che tu stesso puoi testimoniare un tempo ero e oggi sono al punto che gli altri che sono intorno a te dicono di te che sei una nuova creatura vedete l'opera dello spirito di dio è molto più profonda che la conoscenza di una dottrina che l'invocazione di un nome o che la capacità di pronunciare alcune parole di preghiera o di conoscere la parola di dio è il cuore che ne è influenzato a tal punto da essere un altro cuore un'altra persona e questa condizione è una condizione che si rinnova se vuoi mantenere la pienezza dello spirito ha reso a lui ma vedete qui entra in ballo l'opera diretta che dio compie nella vita del singolo credente guarda paolo e tu vedi un uomo che aveva a che fare con dio ogni giorno per la sapienza per la conoscenza per le opere potenti per la propria personale santificazione per il bisogno di ricevere forza coraggio per il rinnovamento della sua stessa energia ora vedete quando lo spirito di dio agisce nella vita di un uomo i frutti si vedono in maniera evidente se poi alla consacrazione all'opera profonda dello spirito di dio si aggiunge un ministerio straordinario come quello che dio concesse all'apostolo paolo beh è quello che succede un'intera città viene messa sotto sopra e i frutti sono beh sono evidenti qua si arriva a livelli proprio incredibili no? straordinari ma pure questa gloria che si manifesta in modo straordinario nel ministerio potente dell'apostolo paolo è una gloria che deve non può che deve non può che deve manifestarsi nella nostra vita non intendo nella stessa misura volesse dio anche più grande dell'apostolo paolo noi non poniamo limiti alla grazia ma deve perché perché se lo spirito di dio non dimora e non si muove in noi noi non possiamo neppure dire di appartenere a dio il problema dov'è e adesso mi avventuro e spero di essere compreso ovvero di riuscire a spiegarmi il problema dov'è è quello che succede nel paragrafo successivo ora cosa succede nel paragrafo successivo cioè quello che inizia dal verso 13 tutto questo movimento questa gloria che si muove intorno a paolo suscita l'attenzione di tutta la città e quindi se tutta la città volge lo sguardo verso paolo qualcuno rimane privo della attenzione che magari prima aveva e ci sono sette uomini i quali si spacciano per persone che hanno un potere particolare sembra quasi qualcosa relativo più alla superstizione alla magia che alla fede ma si presentano con un curriculum che all'apparenza ha il suo valore perché perché sono giudei come paolo lo era sono figli di un sacerdote conoscono la legge e notate invocano il nome del signore Gesù straordinario sembra che il curriculum sia a posto all'apparenza immaginate gli efesini che scorgono in paolo giudeo questa grande potenza e poi arrivano altri sette che dicono guarda che anche noi siamo giudei anche noi invochiamo il nome del signore Gesù e noi siamo figli di sacerdote molto di più di quello che è paolo essendo della tribù di beniamino noi possiamo vantare un privilegio di servizio molto più grande e quindi adesso adesso facciamo quello che paolo fa ci mettiamo a sgridare i demoni e vedrete che noi siamo come lui quindi potete dare ascolto a noi come date ascolto a lui perfetto ok e lo fanno però qui interviene la potenza dello spirito di dio che non è vista ma c'è perché lo spirito di dio lascia alcuni di questi uomini in balia dello spirito immondo affinché affinché gli efesini non siano ingannati e allora questi uomini si avvicinano a colui che è posseduto cominciano a invocare il nome di Gesù in modo un po' bizzarro ma lo fanno cercano di ottenere lo stesso risultato ma manca a loro qualcosa e badate quando quando noi diciamo manca loro lo spirito santo non stiamo parlando del fatto che a loro manca il battesimo dello spirito santo anche ma manca proprio l'opera dello spirito santo in loro ne hanno la forma ne hanno il curriculum che possono vantare da generazioni ma manca l'opera dello spirito santo non si sono mai ravveduti non sono mai stati convinti dallo spirito santo non hanno mai visto il loro peccato lo spirito santo non ha avuto modo di persuaderli del loro bisogno del giudizio che era dinanzi a loro e dell'unica giustizia che c'è in Cristo Gesù il loro io non si è piegato riconoscendosi peccatori dinanzi al Signore non hanno reputato se stessi indegni fin anche dello sguardo di Dio e riconosciuto che l'opera del perdono viene dalla grazia del Signore perché questa è l'opera dello spirito di Dio sul quale poi si edifica la potenza dell'opera dello spirito santo non c'è questo sono uomini che hanno una bella apparenza e io io immagino gli efesini quale difficoltà dovevano avere da principio a distinguere gli uni dall'altro ma poi è tutto chiaro quando è tutto chiaro quando si deve manifestare l'opera dello spirito dello spirito di Dio in loro e quindi attraverso di loro perché se prima l'opera di Dio non è in noi non potrà essere attraverso di noi e allora ecco che questi uomini ci provano ma fallimento totale ora qual è il problema il problema il problema è che noi dobbiamo metterci faccia a faccia con la realtà dell'opera di Dio con l'attualità dell'opera di Dio e con i frutti dell'opera di Dio nella nostra vita qual è il mio il mio pensiero ora togliete di mezzo l'idea dello sgridare il posseduto e del dello straordinario intervento divino nel renderli vittima del demone che volevano cacciare ma immaginate se anziché questi uomini tentare un'impresa ardua che gli costò caro avessero aperto una chiesa nella quale cantare adorare e cercare di imitare quella che era l'adorazione della chiesa che Paolo metteva da parte immaginate se potevano avere delle belle celebrazioni con canti quanto sarebbe stato difficile per gli efesini se non ci fosse stato l'intervento dello spirito di Dio riconoscere quale dei due l'unica differenza era che Paolo manifestava la potenza dell'opera di Dio riesco a spiegarmi l'unico modo per distinguere li stava in questo che l'uno ha la potenza dello spirito di Dio e la manifestazione e la conferma dello spirito di Dio gli altri non non ce l'hanno ma allora per noi diventa importante questo perché perché io dico a me stesso il mio ministerio la tua vita ha una necessità imprescindibile che non è quella di vantare un curriculum ma è quella di manifestare l'opera dello spirito di Dio questa è la differenza e infatti voi la prendete da principio a fine il nuovo testamento lo mettete sotto sopra e scoprirete che il tutto sta sempre lì nell'opera che lo spirito di Dio compie nel singolo e nell'assemblea fratelli per noi è importante non solo invocare il nome di Dio non solo vantare un bel curriculum non solo quindi poterci presentare al mondo come cristiani ma manifestare la potenza dello spirito di Dio e la potenza dello spirito di Dio inizia da cuori arresi e rinnovati da cuori nel quale il Signore ha compiuto un'opera profonda e ha cancellato il vecchio per creare il nuovo persone che sono dinanzi a Dio strumenti completamente arresi nelle sue mani perché hanno riconosciuto che Lui è tutto e loro sono niente a causa del peccato e quest'opera di salvezza produce un tale senso di gratitudine da offrire la propria vita in sacrificio riconoscendo che per quanto Dio possa compiere miracoli straordinari attraverso l'apostolo Paolo Lui si riterrà sempre un aborto perché tutta la gloria appartiene a Dio e quando il cuore è così disposto la gloria di Dio scende e allora gli uomini vedranno bene la differenza non si confonderanno intorno al curriculum Paolo è giudeo figlio di giudei di antica generazione zelante nel servizio questi sono sacerdoti figli di sacerdote giudeo anche loro invocano il nome del Signore Gesù ma c'è una differenza tra i due voglia il mondo poterci riconoscere dalla manifestazione dell'opera dello spirito di Dio che noi dobbiamo ricercare perché se no i primi ad essere ingannati siamo noi stessi se ne fuggirono feriti e nudi perché Dio disse non permetterò a voi di confondere il popolo non lo permetterò voi sarete svergognati dall'opera dello spirito di Dio stesso che vi lascerà in balia di questo demone e voi per mezzo di questo per il mezzo della mancanza della mia potenza sarete riconosciuti come falsi profeti e così considerati e allora fratelli io torno sempre su questo argomento che per me è importante per la mia vita è importante per questo la medito così tanto ed è importante anche per noi per la nostra vita personale per la vita comunitaria soprattutto per i tempi che affrontiamo fratelli la differenza non sta nel curriculum ma nella manifestazione dello spirito di Dio in conversione santificazione prima e in potenza nel servizio dopo e io credo che questo è il tempo di fermarsi e di cominciare a dire signore grazie perché sono figlio di credenti di tante generazioni grazie perché appartengo a una chiesa dove si predica la sana dottrina e si invoca il nome del signore grazie perché magari abbiamo una buona reputazione da quelli del mondo ma poi fermiamoci diciamo però questo non basta donaci la grazia di ravvederci e di cercare nell'intimo l'azione profonda del tuo spirito affinché giunga attraverso di noi anche agli altri e tutti riconoscano che c'è differenza tra chi ha la forma e chi ha invece la sostanza perché il problema di oggi purtroppo fratelli è proprio questo che troppo spesso si conforme si confonde forma con sostanza e sapete perché perché c'è così poca sostanza in mezzo a tanta forma non sia così della nostra vita fermiamoci esponiamoci profondamente all'opera dello spirito di Dio perché questo farà la differenza tra i figli di Dio e tra coloro che invece ne hanno solo l'apparenza meditavo proprio quest'oggi e consideravo questo quel verso che secondo me è uno dei più tremendi di tutta la Bibbia presente in Matteo 7 non abbiamo noi nel tuo nome fatte potenti operazioni e come è possibile che Gesù gli disse io non vi ho mai conosciuto perché quelle presunte potenti operazioni non erano le potenti operazioni dello spirito di Dio ma erano artefizi compiuti dall'abilità degli uomini dalla loro emotività dalla loro forma fratelli basta con la forma facciamo scendere lo spirito di Dio profondamente in noi in un'umiltà profonda in un cambiamento profondo sì che il nostro io ne sia dissolto nella sua presenza per far crescere Cristo in noi per mezzo del suo spirito affinché lo spirito attraverso di noi manifesti se stesso come l'unica vera inconfutabile prova che siamo suoi e che siamo nella verità chiniamo il capo in preghiera grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti